è finita coltellate la lite scoppiata nella tarda serata di ieri tra due indiani a borgonovo nella zona tra viale risorgimento e via salice indagano i carabinieri una nomade di 53 anni è stata condannata a due anni e otto mesi di pena con l'accusa di tentato furto fingendosi una postina aveva tentato insieme alla figlia di raggirare e derubare una pensionata piacentina di 92 anni dal 2014 al 2018 l'azienda sanitaria di piacenza ha ricevuto 12 richieste di risarcimento per infezioni ospedaliere la somma liquidata dall'ausl è stata pari a 325 mila euro divisa in tre casi parte questa sera le 20 e 15 su tele libertà art show dallo spazio luzatti di viaggiarelli ogni sabato patrizia soffientini incontrerà artisti e operatori culturali del nostro territorio regia di giuseppe piva serata di festa allo spazio rotative premiati dal sito www.libertasport.it squadre e atleti migliori dell'ultima stagione e consegnati premi per il gioco di libertà vota il tuo campione piacentino i servizi nel tgl sport